Buonasera a tutti, amore Deo Napoli, Presidente del Pentagono, associazione socioculturale che sta a Penta, al comune di Pisciano. Siamo stasera qui per festeggiare Sant'Antuono a Bari con il cosiddetto Palò di Sant'Antuono. Questa è la nostra undicesima edizione del Palò. Partiti nel lontano 2005, siamo arrivati ad oggi, l'undicesima edizione, come potete vedere abbiamo fatto un bel Palò, il giardino è pieno di bambini che si divertono, c'è stata la benedizione degli animali e tutto. Tutto questo alla fine di un lungo percorso iniziato a dicembre con un'intenso attività natalizie, attività che hanno visto varie tombolate, il decennale dell'associazione, due feste con gli anziani, abbiamo portato 50 persone anziane a spese dell'associazione Il Pentagono, a Cava dei Tirreni, a vedere i presepi, a sentire le messe e la sera al ritorno sono stati i nostri ospiti qui nella sede del Pentagono, hanno scenato insieme a noi. Abbiamo avuto anche una rassegna teatrale dove per la prima volta quest'anno abbiamo anche noi come Pentagono un'associazione teatrale Il Pentagono che ha debuttato il 9 gennaio nell'oratorio a Penta, Immacolata Concezione, con una bella commedia e dove purtroppo per mancanza di posti solo 300 persone hanno potuto assistere a questa bella commedia napoletana. Niente, che dire, una bella serata, i bimbi si divertono, non ha piovuto e speriamo di tornare prossimamente con il Carnevale del Pentagono che si svolgerà a Penta. Ancora la data da definire, però saremo presenti anzi al Carnevale. Grazie a tutti. 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 Figlio e Spirito Santo. Buona festa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.